Esce oggi Stile Originale, il documentario di S Magazine per la celebrazione dei dieci anni dei Ragazzo d'Oro di Gue Pequegno e io mi sento di dover dire qualcosina al riguardo, il documentario è molto bello, molto interessante ed è sincero, è vero, era come uno dei dischi futuri di Gue voglio dire dei retroscena perché io personalmente quel periodo l'ho vissuto e Gue Pequegno rappresentava la nuova rinascita diciamo del rap italiano quel disco, ma anche Bravo Ragazzo, sono dischi che abbiamo pompato fino allo sfinimento ai tempi J Club Dog l'avevo sentiti live due tre volte, fortunatissimo me e Gue Pequegno live anche tra DJ7 e roba varia che faceva due tre canzonette e poi le foto anche più volte, ci veniva spesso qui in Abruzzo, io andavo sempre a sentirlo comunque non me lo perdevo mai, era quasi un'occasione, una volta beccai pure Vincenzo Davian Fossi in pista e gli dissi l'ora d'aria un discone e lui annui, forse ero l'unico in quella mandria di ragazzini che aveva sentito e capito l'ora d'aria comunque dai Club Dogo all'esigenza solista e questo era chiaro, già dai suoi mixtape non era scontato, cioè il discorso mixtape si facevano ma lui che dai Club Dogo ti faceva il mixtape era una cosa nuova, che ti faceva capire ma che cosa sta succedendo ed aveva un suo stile Gue da solo, che non aveva a che fare con i Dogo poteva sperimentare, si percepiva l'esigenza di andare da solo e infatti questo progetto, questo disco diciamo che rimette in prima linea l'importanza anche dello stile, dell'immaginario anche se i video magari erano un po' amatoriali però era questo che funzionava, era quello che riprendeva la videocamera c'era il cambio di marcia questo disco è un disco con produzioni anche classiche oltre che d'avanguardia, sperimentali quegli esperimenti che poi sarebbero diventati la nuova commerciale le nuove produzioni, ecco il mix perfetto tra mainstream e underground inoltre il singolo Il Ragazzo d'Oro fu quello che si dice haters make me famous ovvero era un singolo criticato da tutti, da tutti ragazzi io in primis eravamo lì ma questi non sanno più rappare fanno finta di non saper rappare si sono impazziti un singolo appunto criticato da tutti ma che in teoria non piaceva a nessuno ma lo conoscevano e ascoltavano tutti non si capiva cosa volesse dire e comunicare però secondo me non c'era neanche il discorso del genio geniale perché anche Fibra era criticato in quel periodo che aveva fatto Chi vuole essere Fabri Fibra e subì le stesse critiche perché liricamente si stava cercando di capire come evolversi e quindi anche la strofa di Caneda era un discorso di sto cercando di capire ma fondamentalmente ragazzi quella canzone fu ateratissima e diventò forte anche per un discorso trash che non ha a che fare con la qualità che si vuol far passare cioè il disco è un disco di qualità secondo me ci sono canzoni bellissime Conta su di te ci sono ultimi giorni mamma mia ultimi giorni però questa traccia era molto perculata come quando si dice Duke Montana Duke Montana ragazzi era il perculato per eccellenza io personalmente conosco sue canzoni bellissime quelle con seppia in cameretta ok ma la gente non conosce queste canzoni di Duke Montana conosce Duke Montana il personaggio trash che ti fa ridere che lo prendi per il culo per intenderci quello era i tempi e anche questa canzone era così era così ragazzi io vi assicuro l'ho vissuta quell'epoca poi con gli anni si rivalo lì si rivalorizza te l'ascolti comunque ti entra in testa era ben fatta però fondamentalmente questo singolo ebbe molto successo perché fece discutere proprio il fatto che faceva cagare e che il rap stava andando in una direzione che faceva schifo questo era quello che si diceva poi ha preso una piega che fondamentalmente è stata apprezzata dopo perché poi il rap ha iniziato proprio con la trap e via dicendo a perdere talmente tanto di contenuto e concetto arrivando solo a una parte stilistica che a fatti concreti il ragazzo d'oro è stato il padre di questa corrente nel bene e nel male io non critico e non giudico dico solo quello che è quello che era e non si voleva appunto fare roba più metrica perfetta concettuale si cercava di trovare una nuova opportunità stilistica inoltre il disco sfida molto anche il politically correct no? odio te che si è un ricchione la nascondi a tutti in televisione più o meno faceva così e ragazzi oggi queste cose non si possono dire ma non è una critica al mondo gay questa è la critica a chi si nasconde è una critica al Gabriel Garco di turno che finge di avere le relazioni per vendere o al Paolo Meneguzzi che fa solo canzoni d'amore dedicate alle donne e poi nella vita privata è chiaramente omosessuale si diceva ad esempio quindi ragazzi il pubblico critica critica e alla critica a me compreso non va mai bene nulla ma perché si genera dibattito ma la musica non è dibattito è gusto e questo disco personalmente ne ha di tutti i gusti ed esce dall'idea del concept album e questo lo rende semplicemente un concept album a sé sperimentale e che si si può definire un classico e che si ha cambiato le regole e che si e che si 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 si